Eccoci qui come state, un buon sabato, vi ricordo come sempre di commentare numerosissimi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, giornata di campionato ma anche ultimi sei giorni di calcio mercato, attenzione a mano con gli oggetti desideri del Milan ma anche della Roma, attenzione perché ieri sera è stato escluso dalla gara del Borussia Mönchengladbach per motivi di mercato e anche questa mattina i giornali tedeschi parlano di cessione imminente Dove, a chi, questo è una bella domanda, il Milan spera il Milan, però questo deve passare attraverso la cessione di Ben Nasser, secondo le ultime pare, uso il condizionale, si stia scaldando la pista araba per Ben Nasser che oggi non parte titolare, è in panchina e capiremo insieme stasera se ci saranno ulteriori indicazioni di mercato per Ben Nasser Ben Nasser entra, Ben Nasser non entra, se non entra Ben Nasser in un reparto in cui il Milan forse non ha così tante alternative in mezzo al campo, probabilmente è perché davvero l'uscita dell'Algerino si sta per concretizzare Manucone piace anche alla Roma e appare a questo punto ormai scontata la partenza Il club tedesco lo valuta 20 milioni di euro Vedremo dove, Milan, Roma o altrove? Altrove non ci sembrano essere tanti radar posizionati Il club più interessato a lui è proprio il Milan, deve però uscire Ben Nasser e vediamo oggi che cosa succede Adelino non è stato convocato, quindi il segnale è netto e chiaro, il fatto che ci sia comunque Ben Nasser in panchina Lascia intendere che questa cessione in Arabia non è così scontata Però ripetiamo, anche questa mattina dalla Germania, notizie direttissime su una prossima partenza di Manu Cone Vedremo dove, ditemi che ne pensate e ditemi anche che sensazione avete per la gara di oggi, ore 18.30 Commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella Vi piacerebbe vedere Manu Cone con la maglia del Milan, non più fotomontaggio ma realtà Scrivetemelo, scatenatevi e se vi va fate anche un pronostico per la gara Un abbraccio, buon sabato, buon weekend, buona partita, buon campionato, seconda giornata, ciao